Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono molto contento oggi perché è arrivato il lavoro che avevo mandato a fare. In realtà più che è arrivato sono andato io dove il lavoro era stato fatto perché l'ho fatto fare da mio amico. Dovevo farlo fare da mio amico che lavora rettifica, dire la verità. Poi dopo lui era in ferie, poi non l'ho più sentito. Poi c'è un signore che siamo vicini di casa, che lui ha un laboratorio a casa. E' già in pensione, tanti anni che fa questo lavoro sulle macchine utensili, io credo che avesse mollato lì, invece lo fa ancora anche se è in pensione. E allora sono andato, perché è in regola proprio, non lo fa in nero, lo fa che è in regola, si è messo in regola per farlo che è in pensione. Io credo che invece avesse già chiuso. Sono andato a chiedere se me lo facevo, farsi sì te lo faccio. E io l'ho portato proprio il giorno dopo che poi il mio amico ha detto che era in ferie ancora che era chiuso. Allora ho detto al mio amico, ma dammelo perché, dammelo indietro perché se poi tu apri che si inferi una cosa o l'altra. E poi io non gli telefonavo mai al suo signore, mi spiaceva disturbare. Adesso oggi sono andato un attimo da lui, ho detto, per caso l'hai fatto? Eh sì, che l'ho fatto, te l'ho fatto quasi subito. Solo mi spiaceva disturbare, al di là di quello comunque. Se vi ricordate, questo carter qui, della Pinasco, era più alto di questo qui. Quindi c'era 0,25 mm da tirare giù. Comunque lui l'ha messo in piano tutto, l'ha messo nella macchina e l'ha portato in piano tutto. E ho fatto lavoro come andava fatto. Vedete? Perfetto. Perché prima, se noi facevamo da così a dare in là, c'era lo scalino. Invece adesso è proprio in piano perfetto. Ho fatto proprio un bel lavoro. Infatti, Rosario Parrella, che è una buonissima persona, ogni tanto mi ha dato anche i messaggi su Facebook, mi ha detto, eh ti metti sulla mattonella, perché lui è napoletano, sulla mattonella intendeva, tipo sulla mattonella in piano, con la carta a vetro. Sì, ma a parte che non è un lavoro preciso, poi ci sono andati armati a farlo. Sono le macchine utensili, così ho detto un bel lavoro. E qua, invece, rispondo anche ai commenti di alcuni, che magari ne avevano visto tutti i video, perché avevano fatti almeno tre, che parlavano di questa doppia spiegazione del Pinasco, mi diceva, ma come fa a funzionare se hai un lavoro specifico? Bene, questo non è un lavoro specifico, è un lavoro originale, si forra da 11 mm al centro, è stato tolto un millimetro sulla sfacciatura, così le lamelle lavorano meglio, a me non mi ricordavo si faceva così, ed è stato forato da 11. Questo originale è robusto e si poteva forare anche da 11,5 mm, però io ho preferito non esagerare, l'ho forato da 11. Ovviamente, quando lavora, c'è qua praticamente la parte che aspira, vedete, noi facciamo finta di vedere così come viene montato, lui gira così il motorino, no? In senso orario, da come lo guardiamo, praticamente cosa succede? Questa qui è l'aspirazione, quella che va ad aprire la valvola, quella solita, e questa qui invece è la chiusura, il ritardo, quindi io poi andrò a tagliare qua, la polina dice tagliare persino 15, ma se tagliamo 15 andiamo a finire oltre, andiamo a finire qua dove c'è questa sacca, diciamo, e funziona lo stesso, però non è bello da vedere, e poi c'è il rischio che non tiene il minimo, quello deve tenere alto di giri, come ne avevo già parlato, allora io tolgo un pochettino ad arrivare fino a rivè a filo lì, e poi invece qua sul ritardo tolgo 5 per non rischiare, però anche qua si può togliere un po' di più, diciamo, la polina dice 15 e 5, alcuni tolgono anche 20 di qua, che tolgono parecchio, e gli va bene, però a volte non tiene il minimo, al di là di quello io vado poi a tagliare l'albero, farò un po' un filmato che lo taglio lì, uso una mola, un flessibile da tagliare, poi una moletta da una rifinita senza fare i fighettini più di tanto, faccio una cosa che funziona, poi tanto è per me, e invece qui va a aspirare, apparentemente quando qua aspira dalla valvola, l'apertura la fa qua e praticamente girando, butta giù nella manovella il carburante, che poi dopo viene spinto su dai travasi, va sul pistone e fa la compressione, invece la stessa cosa capita, però anziché entrare dall'apertura della valvola, è comandato dal pacco lamellare, dentro e adesso fuori qua, l'altro carburante del doppio carburatore, vedete, sendo forato da parte a parte, e va, vedete qua che è forato, va a finire lì il carburante, adesso, se avete un attimo di pazienza, perché non ci ho pensato a prepararlo prima del filmato, prendo un attimo che ho degli alberi per fare il paragone, lo voglio farvi vedere, allora questo qui, è un albero spinotto 12, che me l'ha regalato un mio amico, che devo fare un motore per un ragazzo, vi faccio vedere questo, allora questo qui non è stato, è il mio, questo qui è stato forato, non è stato ancora anticipato, guardate come è messo, di anticipo e di ritardo, guardate questo qui, questo qui è un spinotto 12 con bronzina, va al di là di quello, guardate qua come l'hanno, guardate qua, la differenza, questo qui teneva benissimo il minimo, anche se l'ha tagliato tantissimo così, anche un po' in modo cattivo, diciamo, vedete qua, guardate qua la garova, però teneva il minimo, anche se qua c'è poco spessore a chiudere la valvola, a fare tenuta, lo teneva, e funzionava egregiamente, invece questo qui così, e guardate anche sul ritardo, questo com'è, il materiale che c'è, e questo qui com'è, guardate, poi neanche un altro, sempre che mi ha regalato un mio amico, che è spinotto 10, questa la nasceva già con la biella cromata, ed era già anticipato, però oltre a essere già anticipato, l'hanno anticipato ancora, vedete qua, che c'è il, che sono andate a beccare lì, sempre sta sacca qua, e anche qua, vedete che è stata tagliata, tra parentesi, sull'anticipo, io taglio anche dritto secco, come hanno fatto con questo, che apre la valvola, invece sul ritardo, preferisco fare un po' di cucchiaio, diciamo, come l'originale, come questa l'hanno fatto su questo, come hanno fatto anche su questo, e come nasce in origine originale, perché quando tu vai a aprire la valvola, si apre, poi chiude, apre il carburante che entra, questo qui fa come una sorta di cucchiaio, che va a chiudere, poi funziona lo stesso, anche se staglia dritto, perché una volta staglia dritto, chiudere chiude comunque, però se sei solitato, si fa il cucchiaio, è meglio diciamo, comunque sono contentissimo, che è stato forato questo albero, adesso appena possibile, farò i filmati che, faccio vedere come raccordo qua i carter, limo un po', faccio il fronte scarico, e poi cosa faccio, allargo il collettore, qua un po' era stato già allargato, lo allargo un pochettino di più, per una profetà di 18 mm, senza esagerare, qua non c'è problema, perché è già abbastanza profondo, il travaso invece qua di solito, se si va in profondità dritta, a scavare, si buca qua, e poi bisogna mettere dello stucco bicomponente, per ovviare quel problema, e adesso non sono, adesso definire lo devo cercare, però se lo da qualche parte, lo farò vedere, c'è di diversi tipi, e al massimo se sfondo, poi ne lo uso, e quindi niente, poi andiamo avanti, poi vediamo di farlo accendere sul cavalletto, sto motore con 65, poi il prossimo colpo, se lo abbia soddisfatto con il 65, il prossimo colpo, smonti di nuovo tutto, porto questi cartelli rettifica, e li faccio barenare, per mettere 75, e questo è quanto, se vi è piaciuto il filmato, mettete like, se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale, e ci saranno altri filmati interessanti, qua c'è ancora della lavorazione, dei trucci da pulire, poi pulisco bene, lavo tutto bene, ma tanto adesso è inutile lavare, che poi devo fare delle limature, lavo poi tutto alla fine, e ciao a tutti!